Gravissimo incidente alla circombesiviana di Ercolano. Un giovane studente di 16 anni è rimasto incastrato tra il treno e il marciapiede mentre tentava di passare da un lato all'altro della stazione attraversando i binari. È invece riuscito a mettersi in salvo un altro ragazzo, amico del 16enne, che pure aveva tentato di attraversarli. Sul posto le forze dell'ordine, i vigili del fuoco e i medici del 118, che hanno cercato di liberarlo. Le sue condizioni sono gravissime. Il giovane è stato caricato sull'ambulanza privo di sensi ma vivo, anche se avrebbe una gamba ridotta malissimo. Il primo a intervenire è stato un agente di polizia della municipale di Ercolano, in servizio nei pressi dell'area archeologica che dista pochi metri dalla stazione. Ha raccontato in lacrime una scena raccapricciante. È stato anche sentito il macchinista del convoglio diretto a Salerno. I medici dell'Oreto Mare di Napoli hanno fatto il tutto per tutto in una difficile operazione. Il giovane ha perso molto sangue, la sua prognosi è riservata.